Ritengo che per riuscire a cambiare il corso di questa Europa che sta finendo in un burrone, in un baratro, bisogna cambiare radicalmente la linea politica anche delle presidenze. E purtroppo per capire come cambiare bisogna anche rendersi conto dello scontro in atto. È evidente che c'è un'Europa che va verso il mondialismo, l'Europa delle banche, l'Europa di Goldman Sachs, dall'altra parte c'è l'Europa dei popoli, l'Europa delle identità. Ora dipende da chi governa e da chi ha il potere decisionale, vedere da che parte stare. Ma in ogni momento si può cambiare, questo è l'invito che faccio anche alla presidenza greca, visto che ha subito più di ogni altro in Europa quello che è il mondialismo voluto appunto da questi eurocrati che vogliono distruggere i nostri popoli. E quindi mi chiedo se non sia il caso di iniziare a fare un dibattito aperto, se l'euro ha funzionato in Grecia, così come in Italia, così come nei paesi del Mediterraneo, oppure no. E vedere se magari si può modificare qualcosa, anche se spesso dicono che è impossibile. Ma perché è impossibile? Nulla è impossibile. E chiedo anche riguardo alle politiche migratorie. Nel momento in cui abbiamo una disoccupazione che cresce, mi chiedo come potremo fare ancora ad assorbire nuovi immigrati, nuove persone disperate che vengono sui nostri territori. Com'è possibile se non c'è lavoro neppure per la nostra gente, per gli europei? E poi chiedo anche riguardo alla politica dell'allargamento. Io non so se il popolo greco sia felice di sapere che negli ultimi sette anni l'Europa ha dato 5 miliardi di euro per fare in modo che la Turchia aderisca all'Unione Europea. Penso che sull'allargamento dovremmo rivedere un po' di cose. E anche magari sulla politica commerciale. Come facciamo a sostenere la concorrenza di paesi come la Cina? È assolutamente impossibile. Potete cambiare se lo volete, ma dovete essere convinti. Grazie.